I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri, in base al DMC numero 145 del 203 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è bonca e la gioia è tanta e poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. Bella casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casalotto, il tv, yee yee yee. Buongiorno martedì 19 novembre, come stiamo? Io ho ancora un po' di mal di gola ma vabbè sono un po' gli acciacchi di questa stagione, copritevi mi raccomando perché fa freddo. E qua invece noi cerchiamo di riscaldarvi almeno in questa puntata del mattino, la prima puntata che poi vi porterà sempre pian piano più vicino all'appuntamento di questa sera dove viveremo con voi in diretta all'estrazione del martedì sera. Partiamo subito, tante le notizie e soprattutto però gli argomenti più calienti e attesi da voi sono i super mega consigli. Allora do subito il buongiorno e il ben ritrovato a Marco. Ciao Sheila, ben ritrovato, insomma di due ne facciamo uno. E anche tu vedo che sei un po' di gioco. Insomma ci sta, questi sbalzi di temperatura da qualche parte dovranno colpirci. Ben ritrovata, un buon inizio giornato ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto. Ci siamo perché questa sera affronteremo l'ottava estrazione del mese, il mio compito sarà non solo ricordare come sabato è andata e devo dire insomma con il 90, il 90 e 45, il 90 e 8, insomma qualcosina abbiamo portato a casa. Certo si poteva fare molto di più ma anche molto di meno. Quindi altra buona estrazione. E devo dire insomma la ruota di Firenze per chi è stato anche molto attento a ciò che si era detto nel fine settimana parlando di quello che era accaduto proprio a Firenze con l'estrazione di giovedì che ricorderete aveva dato l'ambo di figura 9, 9 e 54. È passata una sola estrazione, quindi sabato, cioè non è passata nessuna estrazione. Al primo colpo è arrivato il 45 e 90, quindi il gioco dei vertibili ha funzionato. Ora attenzione perché ci aspettavamo altri numeri, in realtà l'attesa del 9 e 90, molti più 9 e molti più 90, nonostante in ogni estrazione qualcosa riusciamo a prendere e vabbè andiamo avanti. Quindi questa sera ce n'è un'altra, il periodo è sempre più importante avanti, è importante, niente oggi non ho le E, le I. A posto, cercheremo di arrivare fino alla fine. Esatto, non sono rincoglionito, sono al passaggio successivo che non credo abbia un termine. Stavo dicendo appunto che è molto più importante nel momento in cui questi due numeri che sono il 9 e il 90 che avrebbero dovuto avere una frequenza maggiore ancora non ce l'hanno avuta per come noi lo aspettavamo, ebbè attenti perché questi si devono incontrare. Andiamo avanti, partiamo. Bene, ti lascio qualche secondo per resettare un po' quello che andrai adesso a dire, a fare insomma in redazione. Tre sono le notizie. Allora, intanto parleremo di spreco, di spreco alimentare, poi faremo gli auguri a una straordinaria attrice che compie gli anni ed è Judy Foster, e poi giusto un paio di giorni fa ho visto questo scatto ed è bellissimo, mi è veramente intenerito, è uno scatto che è intitolato Sinfonia numero 5. Questa foto è stata scattata da un ragazzo di 16 anni, Carpe Die, è proprio accolto l'attimo. Non so se l'hai vista Marco, sono questi cinque passerotti col becco aperto che stanno aspettando la mamma che li porta. E lui dal giardino di casa ha proprio beccato il momento molto molto bello, la vedremo insieme a questa foto. Questi sono gli argomenti, ma io lo so che quando è giornata di estrazione, ovviamente volete sapere cosa poter andare a giocare prima di questa sera. E qua guarda, corriamo subito di là perché andiamo a parlare dell'unico 90, un 90 che in realtà arriva su due ruote consecutive, lo avevamo già attenzionato, ve l'avevo già anche detto proprio durante l'estrazione sabato sera, di fare molta attenzione a Bari-Cagliari. Noi ci siamo occupati anche di altre traiettorie, ma ne ho molto parlato anche ieri sera e ieri pomeriggio, perché su Bari-Cagliari a questo punto del mese, in quella condizione triangolare, vabbè, insomma qui il 90 è un gioco da ragazzi. Poi ha più terno, venite con me. Molto bene, 895 e 095, partiamo dal portale più importante, il più amato e usato dagli italiani, quello che contiene sempre il 90, e che molte volte, insomma, è quel 90 che arriva anche con gli abbinamenti. Vado veloce perché in realtà non c'è bisogno di chiacchiere, vi ho già detto tutto in relazione non solo ai risultati, con il 90 appunto della ruota di Firenze che è arrivato nella scorsa con l'8 e con il 45, ma qui andiamo a Bari-Cagliari, quindi c'è un 73-17, Bari in teoria è la migliore delle due, perché? Perché ha l'ambo di somma 90, ma è proprio la chiusura triangolare di questa somma 90 nel 17-73 che va a rappresentare sulle consecutive, ci tengo a sottolinearlo, perché il mondo del Bari-Cagliari lo conoscete bene. C'è un totale di due ambi, un terno, questo è tutto quello che useremo per questa sera con il 90. E allora sempre con l'Io, vi aspetto da rete fissa dai cellulari, nel portale più amato e usato dagli italiani, 895 095, sempre dopo il tasto 3. 895 095, tu lo ami di più, 895 095, vola sempre più su, 895 095, vola sempre più su, E' quel numero che se lo ami amate E' quel numero che se lo ami amate 8-9-5-0-9-5, chi l'ho scelto sei tu 8-9-5-0-9-5 Tu lo ami di più 8-9-5-0-9-5 Vola sempre più su E' quel numero che se lo ami amate 8-9-5-0-9-5 8-9-5-0-9-5 E' quel numero che se lo ami amate 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 E' quel numero che... E' quel numero che se lo ami amate E' quel numero che se lo ami amate E' per la part E' quel numero che se lo ami amat E' questa che se lo ami amare 8-9-5-0-9-5 tu lo ami di più 8-9-5-0-9-5 vola sempre più su ecco il numero che se lo ami amate eccoci eccoci allora siamo rientrati ciao Dani la nostra Dani è colei che insomma riesce durante la settimana a rispondere sempre ai messaggi ai problemi che non ci prova ci riesce bene il problema è che ovviamente non può rispondere sempre a tutti ecco poi insomma abbiate pazienza lo diciamo sempre ecco perché lei dedica tantissime ore quindi di Daniela ne abbiamo una sola allora andiamo avanti e parliamo di un argomento che bisognerebbe parlare più spesso lo spreco alimentare giovane single benestante questo sarebbe l'identikit dello sprecone alimentare secondo una indagine svolta in occasione della seconda edizione della giornata della nutrizione pane frutta e verdura sono gli alimenti al top dello spreco allora secondo questa indagine appunto più che le famiglie dove magari c'è marito moglie figli e più il single a dire poi benestante cioè dice che che me frega non talmente tanti che anche se poi alla fine butto un po di cose ma non però ne abbiamo già parlato io e te insomma di questo argomento mi fa piacere riparlarne ancora non lo so non è una roba semplice nel senso che credo che in principio tutti siamo un po contro lo spreco alimentare poi però è innegabile che accada che si debbano buttare delle cose io però vado un po anche e trovo una sorta di giustificazione vado un po a monte di quello che è non so che cosa mangiamo perché alla base io ho questo tipo di problema mi viene in mente una cosa molto recente di lamponi che ho comprato la mattina e che la sera li ho trovati praticamente con la muffa e quindi non li mangio li butto via no la muffa posso anche evitare di mangiarla insomma ecco quindi quello è uno spreco ma comprati buttati dalla sera alla mattina da mattina alla sera erano conciati a sbattere via mi capita a me capita spesso non sono un grande fruitore di frutta però ho delle mie preferenze alcune cose le mangio quindi non sono uno che ne compra tonnellate poi la butta via quando la compra vuole mangiare trovare oggi della frutta pronta per il giorno stesso è impossibile perché compriamo delle mele che sono delle bocce la qualunque cosa di qualsiasi stagione si tratti insomma è un accontentarsi no è lontanissima dal gusto della frutta di una volta occorre sempre che passi qualche giorno e lo stato di maturazione della frutta che viene venduta quindi io non lo so se ha dei processi di refrigeramento se nel trasporto è a meno tot gradi e poi la rimettono sul banco non lo so tu la prendi per uno barra due tre quattro giorni è immangiabile una mela il quarto era trappita sta morendo e marcia anche queste robe qui non sono tanto carine ecco perché lo spreco tanto per no a me non appartiene non non sono ma infatti non appartiene a te ma non è neanche il problema del prodotto in sé che dopo due giorni va male secondo me è in questo caso è secondo appunto l'indagine proprio il single che fa magari una spesa fin troppo esagerata per essere una persona sola e alla fine o e spesso poi di o alla fine va spesso fuori restano lì le cose poi alla fine ovvio che si buttano io che sono anche una single per esempio piuttosto preferisco andare più volte al supermercato e prendere quello che mi serve sapendo che magari per due tre sere non esco e preferisco organizzarmi così difficile che vado una volta e mi riempio il frigorifero per tutta la settimana però la posso fare più grande di una casa cioè chi ha creato ha fatto questa ricerca ha scritto questa notizia è un pirla perché che senso ha quando noi sappiamo che ci saranno quanti singoli in italia che possono avere il vizietto del buttare la roba da mangiare perché in casa è da solo se non la mangi tu e chi altro ti aiuta ma perché non scrive dei supermercati cioè lo spreco dov'è lo spreco alimentare è avere 100 milioni di catene di supermercati nel raggio di un chilometro ci sono 12 marchi diversi di mega supermercati con una valanga di roba che noi non vediamo che fine fa quello è un altro argomento ma allora capisci che se tu non ci parlo di spreco alimentare ma che cosa vuoi che me ne freghi a me di uno che ha buttato via tre pere e una mela e mezzo etto di prosciutto cotto perché l'aveva comprato per il giorno dopo e poi ha trovato una gnocca per andare fuori a mangiare e quindi è finito via mezzo etto di prosciutto cotto insomma mi sembra davvero un'indagine fatta con il culo no no qua si parlava di persone fisiche ma io se volessi parlare di uno scandalo sullo scandalo ma sullo spreco alimentare andrei allo spreco alimentare vero non a quelle che sono non è la gocciolina del rubinetto che perde che poi fa il danno ecco quindi no non mi piace non mi interessa va bene ok lo riprenderemo lo faremo ma io sta roba ti giuro non la capisco continuiamo a vedere mega supermercati che aprono che chiudono che fanno un anno sei mesi e cambiano nome cambiano ma cioè non lo so ecco lì c'è qualcosa davvero che non quadra io non lo so per la comodità di che cosa avere quattro marchi nell'arco di 800 metri e poi c'è tanta roba secondo me che non viene comprata perché dobbiamo fare i conti che se tutto ciò che noi vediamo oggi nel mondo dei grandi supermercati che io amo tutti alla follia è perché insomma sono uno anche molto curioso sulle novità se questo tipo di meccanismo ci fosse stato in un'epoca un po più ricca no anni 80 anni 90 e beh insomma ne capivo l'esigenza perché ci si dava anche dentro col mangiare oggi siamo io non mi ci metto neanche tanto tutti a dieta quindi tutti cercano quattro cagatine senza calorie senza quello senza grassi senza zuccheri ok in un mondo c'è tutta quella roba dove va io veramente vorrei mettere delle telecamere nascoste perché secondo me poi viene buttato via comunque apparentemente ritirato una valanga di roba che finisce poi proprio male 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 e questo lo trovo terribile perché cosa per il gusto di avere quattro opzioni di supermercati intorno a casa giganteschi per andare a comprare una mozzarella netto di bresaola e quattro sciocchezze e guardare le novità e non lo so ecco io questa è una cosa che non ho mai visto toccare seriamente io non credo che tutto quello che vediamo viene venduto e mangiato dai banchi del fresco anche semplicemente a tutte le robe confezionate credo che ci sia una quantità pazzesca di roba che viene buttata via e lì è grave perché per il bell'occhio e il bel gusto di avere 100 milioni di supermercati poi purtroppo allora poi andiamo all'inquinamento ma ha tutto un meccanismo che non è il single che butta via una roba dal frigorifero molto chiaro ok non ce lo dice nessuno è vero è questa roba qua non se ne parla cambiamo argomento perché se no restiamo tutta la mattina su sull'argomento dello scarto alimentare poi faremo gli auguri giù di foster quindi marco torniamo a parlare di numeri di consigli vai allora andiamo andiamo e andiamo a vedere l'altra possibilità perché ovviamente si salta dal numero 90 che è in netta ripresa come si era già detto abbiamo questa sorta di inversione di marcia ma attenzione perché poi lo vediamo non si è nemmeno smentito il 9 la figura 9 quindi andiamo ad aprire un lotto flash dove il 9 si ripete e qui devo dire attenti perché c'è una particolarità solo io e l'io nel momento in cui c'è stato un risultato c'è un numero appena arrivato su una ruota siamo capaci di riproporlo senza troppe storie insomma uno diceva ma è appena uscito l'abbiamo appena vinto ma perché lo devo rigiocare lì e beh attenzione io ve l'ho detto in apertura giovedì firenze aveva dato il 9 e 54 sabato firenze aveva dato il 90 e 45 e come vedete si rincorrono attenzione perché parleremo ancora di firenze dove c'è il 9 che è ancora una straordinaria andata anche se abbiamo appena vinto e questa è una piccola sfida firenze una ruota un ambo e poi parleremo di firenze venezia quindi la ruota di firenze in realtà sto 9 ce lo deve ridare andiamo a vedere perché molto bene allora al titolo il 9 si ripete sfidiamo la ruota di firenze ma lo facciamo in modo molto carino ci mancherebbe altro quale sfide sono sempre simpatiche perché perché firenze come vi ho detto è già per due volte protagonista del gioco di figura 9 9 e 54 scusate giovedì 90 45 sabato è qua quindi abbiamo un 90 e 45 quindi mettiamo insieme intanto il triangolo 90 45 27 siamo a firenze venezia qui il 9 deve essere usato quindi sulla condizione di firenze e venezia classica ambata ovvero il numeretto 9 un ambo un terno io vi chiedo di fare molta attenzione a firenze rimaniamo con questo quadro estrazionale perché abbiamo il 45 richiamo per il 9 c'è il 90 che è il vertibile del 9 troviamo l'8 che è il laterale il consecutivo quello prima insomma non è consecutivo è quello che anticipa il quindi il 9 è un consecutivo del numeretto 8 e l'ambo di numeretti 27 che è una somma 9 cioè c'è una cinquina intera intera che richiama il 9 che abbiamo già vinto giovedì quindi firenze ha un fracco di possibilità di ripresentarlo e allora che cosa c'è come il 9 si ripete sfidiamo la firenze la condizione firenze venezia un ambo un terno che è un classico un euro di ambo un euro di e l'abbiamo messo lì beh attenti perché poi firenze l'abbiamo staccata c'è solo un ambo quindi c'è il numeretto 9 con un numero vicino non è di figura 9 ve lo anticipo perché questo è veramente uno straordinario ambo secco che potrebbe essere questa sera la sorpresa del risultato importante al primo colpo con una bella sfida su qualcosa che abbiamo appena vinto e allora 89 22 77 il portale è aperto è qui per voi ed è l'otto flash tutto ste robette qua sul numeretto 9 occhio a firenze vi aspetto a firenze vi aspetto per voi Grazie a tutti. 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 Tu ti ricordi questa cosa? Non uno scandalo, non uno scandalo, però è il solito chiasso perché si sposò appunto con una donna, cosa che era già assolutamente nota dai tempi che furono, però sì, assolutamente sì. Grazie a tutti. Perché a tutti. I livelli non ci sono i livelli non ci sono i livelli, non ci credo che non ci sono i livelli, non ci sono i livelli, non ci credo che non ci sia una chiamata per lavorare, ci mancherebbe altro, chissà in quanti lavorerebbero, probabilmente non c'è ancora quel ruolo che è mio. Grazie a tutti. 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 si vede sulla destra che sta arrivando la mamma questo scatto naturalista dell'anno l'ha realizzata un ragazzo di 16 anni nel suo giardino di casa 5 uccellini in attesa del cibo lui ha intitolato la foto Sinfonia numero 5 e dice farò il fotografo naturalista l'autore è riuscito a fermare quel preciso istante in cui i piccoli becchi sono aperti all'uniso all'uniso mentre la madre appare sfocata in primo piano ammette non mi sono subito reso conto della foto che avevo fatto avevo scattato a raffica se ne sono resi conto nella giuria del Nature Photographer of the Year 2019 che il 9 novembre a Ede in Olanda ha premiato il 16enne Giacomo Redaelli per la categoria giovani ha un futuro questo ragazzo ha avuto fortuna che bella quella foto è un scatto molto molto bellissimo devo dire immortalardi a bocca aperta non è difficile perché quando sono piccoli sono dei morti di fame dei morti di fame appena arriva la madre cioè stande a così delle ore quindi insomma non è così difficile molto bella però assolutamente grazie pensi che è un ragazzo di 16 anni assolutamente anche questo tanto di cappello allora corriamo di là perché noi tra due minuti ci salutiamo però io voglio aprire le linee quindi poi finita la diretta ci potete continuare ad entrare perché manca l'otto segreto dove il 68 e l'81 sono questa sera i pezzi forti e poi c'è anche l'abbinamento dell'attesissimo 9 e 90 vi dico dov'è poi se no se non ce la fate segnatevi il numero perché potete subito dopo la diretta continuare ad usarlo andiamo beh ma ce la fate avete due minuti di tempo altrimenti segnatelo potete dopo i saluti che avverranno appunto tra due minuti e mezzo continuare ad entrare nell'89 34 94 34 e beh chiudiamo con il meglio il portale dei consigli di Lio con speciale 68 terno con l'81 ed è l'otto segreto e sapete già che cosa aspettiamo a questo punto del mese e l'abbinamento segreto per il 9 e 90 guardate sotto solo su una ruota l'attesissimo 9 e 90 riparte da qui tasto 3 ora nell'89 34 94 94 34 Oh yeah Ah ah Oh yeah Ah ah Oh yeah Ah ah St. Ambrose goes marchin' in Oh boy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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